nuova stagione di eccomi in compagnia di vito rizzo che è l'ideatore il conduttore di questa bellissima trasmissione televisiva una puntata dedicata interamente alla pandemia allora vito ci spieghi di cosa si tratta beh questa sera alle 21 e 15 su cilento channel andrà in onda questo speciale di eccomi sulla pandemia dove ospiteremo don carlo pisani che è stato coinvolto direttamente molto attivo anche lui anche la chiesa è stata molto attiva in questa fase pandemica un'intervista al centro vaccinale a gianna infante della croce rossa italiana e poi per completare la lettura di questa fase un'intervista ad un professore novax che è stato per un mese anche sospeso nello stipendio e ci siamo confrontati anche in maniera franca dobbiamo dire quindi molto 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 aperta su quelle che sono le rispettive visioni quindi una puntata interessante che ha cercato di leggere di dare voce a tutti non dimenticando soprattutto le tante persone che ci hanno lasciato per causa di questa pandemia diciamo che è una puntata questa dedicata ai tanti amici che non ci sono più possiamo ribadire l'orario di trasmissione della puntata vito allora questa sera quindi ogni venerdì sapete alle 21 e 15 canale 636 del digitale terrestre e per chi non riceve il segnale della provincia di salerno e sono tanti che si collegano su internet e se la